Dottoressa Heinen, lo stile alimentare americano è conosciuto per essere sicuramente molto attraente, specialmente per i più giovani, ma oggi si sa poco sostenibile in termini salutistici, in termini ambientali e forse anche in termini economici. Ma questa era la situazione fino ad oggi, forse qualcosa sta cambiando anche negli Stati Uniti. Sì, come in molti paesi occidentali abbiamo visto che abbiamo dei problemi con la obesità dell'obesità, e quindi abbiamo lanciato, con l'amore della prima donna, Michelle Obama, una Let's Move campaign, concentra in a trying to improve la nutrizione e qualità di i nostri alimenti, e l'attività level di i nostri alimenti, aiutare i nostri alimenti, aiutare i nostri informazioni, aiutare i miglioramenti, aiutare i miglioramenti, con la qualità e l'avvailabilità di frutti e i vegetali, aiutare le nostre scuole e le persone con i nostri agricoli. E in pratica questa strategia come viene attuata? Well, there's a number of efforts. A major focus is on our school lunch programs or breakfast programs. We have for many years had major programs run through the Department of Agriculture that provided school meals to children, especially the needy, but at various income levels. We're doing a major re-looking at those programs and trying to make sure that the food that we provide our children in the schools is the best nutritional quality, and also the right proportions, and also teaching them more about nutrition and food preparation, and how to purchase foods and work with foods in the schools. Lei ritiene che questo avrà anche effetti sui costi sanitari, sulla spesa pubblica per la salute? Well, we certainly hope so. Healthy children lead to healthier adults. Right now we think that we spend about 150 billion dollars a year on healthcare costs related to obesity related diseases. So by helping our children be healthier and develop better lifestyle choices as young people, we hope they'll carry them into adulthood and reduce the incidence of some of these diseases and help bring down our healthcare costs. So yes, we're helpful. E qual è il ruolo delle grandi aziende? Mi riferisco soprattutto alle multinazionali dell'alimentazione. Anche loro devono portare il loro contributo alla nuova politica alimentare? Well, we're working with the bigger corporations and companies that provide food to the schools. They are part of the Let's Move campaign partnership and we will be asking them to work with us looking at the report recently put together as we prepare to reauthorize our school lunch programs and other school-based programs to work with us to try to reduce the fat content, the sodium content, to provide, help us provide better, healthier, fresh foods for the school programs. And also we're looking towards our major media companies and asking them to work with us to provide more education to consumers through the media on good nutrition choices. Vivendo in Europa, lei ha senz'altro la possibilità di fare un confronto tra quella che è la situazione nostra, quindi europea, e invece la situazione americana per quanto riguarda le politiche in campo alimentare. ha la sensazione che ci sia una certa convergenza, che sia un campo nel quale non ci sono conflitti e tutti più o meno spingono verso lo stesso risultato? Well, that would be nice if there were no conflitti. No, I heard this morning many things in this conference this morning where we had very similar guidelines, proposals, and approaches to how to deal with the issue of obesity. So I think there is a lot of convergence between Europe and the United States that we need to attack this problem of childhood obesity and that the components of that are the appropriate meals, the appropriate size meals, the appropriate nutritional quality of meals, and lifestyles that lead to healthy adults. So, you're optimistic? I'm very optimistic. Thank you. Thank you.